E' arrivato il momento di svappare, svappo web! Partiti! Grande parata! Attacca il cooperazione miscano da lontano! Forse è anche della buona difesa dell'Eclanese! Spezza le azioni! Intanto qui, occasione! Intanto finisce il primo tempo, azione dell'Eclanese! Ruggero! Ancora in mezzo, giro di testa! Grande, più dettagli di testa che mai! Come ci diamo? Con il cooperazione miscano da vete! 1 a 0 del cooperazione miscano! Assegniamo con il numero 11, capolotta! 1 a 0! 2.0 della valle ma adesso ancora con Castaldi Dei mari, ancora Dei mari, Dei mari Corsa al centro De quel mese, nulla da fare Cioè, devo dire, due, due, due Siamo a ripartire, rischiamo Buongiorno, Marinaccio Adesso ancora attacco Emilia Niscano Pagliaccetto, super parata Di Rousseau Un dato pericoloso E finisce, è finita qui Luigi Gucchi di Monte Carlo Pino Il Miscano parte 1-0 L'Ignanese Di Rousseau